Anche la casa possiamo scegliere il nostro futuro. Mi presento, mi chiamo Stefano, sono uno studente del terzo anno del corso Scienze del Turismo qua in Subria. È un'università che mi ha cambiato veramente tanto in positivo, mi ha permesso di conoscere un sacco di persone, sia docenti che studenti, veramente interessanti e ti propone delle esperienze altrettanto interessanti, come per esempio l'anno scorso ho avuto la possibilità di svolgere un workshop alle Maldive ed è rimasto uno dei viaggi più belli della mia vita, fino adesso perlomeno.